Feriana Ferraguzzi, 23 anni, Perugina, il primo esempio di professionismo di calcio femminile con due stagioni giocate fuori e l'ultima nello standard degli Egi. Com'è stata questa esperienza in Belgio? Diciamo è stata molto positiva anche perché ho acquisito molta esperienza, soprattutto internazionale, giocando anche in amichevole contro gli olandesi e soprattutto le ragazze della Germania. Diciamo che è stata soprattutto positiva anche a livello di vita perché ho imparato una lingua che è francese e penso che si può rilevare qualcosa positiva a tutti i sensi.